Dopo svariati stop and go che ormai durano da più di dieci anni, da quando la Regione Calabria mise a punto la costruzione di quattro nuovi ospedali nel territorio calabrese, tra cui uno da costruire nella Piana di Gioia Tauro e gli altri tre nella Sibaritide, Vibo e Reggio, pare che adesso qualcosa si stia muovendo. È stata infatti riavviata il 27 marzo la progettazione definitiva del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere nei pressi di Palmi con la consegna del progetto che dovrà avvenire entro il 22 agosto. A ufficializzarlo in una nota inviata via PEC dalla Regione al Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio è il responsabile del procedimento Domenico Pallaria. Il dirigente regionale ha risposto dopo due mesi alla richiesta ufficiale avanzata dal primo cittadino palmese che chiedeva di avere informazioni sulla situazione relativa al nuovo ospedale. Pallaria ha comunicato che gli esami effettuati sui terreni hanno scongiurato la necessità di rivedere l'assetto edilizio e funzionale della nuova struttura ospedaliera. Questo dovrebbe evitare ulteriori slittamenti per lo sviluppo della progettazione definitiva. Dai primi esami geognostici erano emerse delle discontinuità di potenziale origine sismica tettonica che, se confermate, avrebbero comportato diversi cambiamenti rispetto alla progettazione preliminare con l'edificio che avrebbe dovuto avere una forma più compatta con maggiore sviluppo in altezza e la conseguente revisione dei parcheggi e degli edifici di servizio. Il dirigente regionale mette comunque le mani avanti chiarendo tra le righe che l'iter avviato più di dieci anni fa non è comunque in fase di conclusione. La progettazione definitiva, spiega infatti, rappresenta tuttavia soltanto uno degli step che dovrà portare all'effettiva cantiarizzazione dei lavori. Previa conclusione della conferenza dei servizi, per l'acquisizione dei necessari pareri e verifica dello stesso progetto definitivo. Si procederà tempestivamente alla sua approvazione e all'emanazione del successivo ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva. Sta di fatto che questa è un'altra storia di Calabria, di quelle da dimenticare, dove, con i soldi stanziati dal Ministero della Salute da più di dieci anni, e i soldi sono tanti, ancora non si è vista una sola pietra per il nuovo ospedale di Palmi.